Stando all'ordinanza del GIP di Milano emessa su richiesta della DDA, la presunta associazione per delinquere avrebbe commesso una pluralità di azioni illecite a partire dall'emissione di fatture ed operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e versamento dell'IVA e ancora appropriazione in debita, ricettazione, traffico di influenze, intestazione, fittizia di beni, corruzione tra privati. 15 le ordinanze di custodia cautelare scattate oggi. Questa volta gli interessi dei clan si erano spostati verso i servizi di una grande azienda, quella della Lidl. In particolare alcuni esponenti dell'associazione riconducibile al clan catanese Laudani nel 2008 avrebbero costituito la CIGI Facilities e poi nel 2015 la CIGILOG, società consortile a cui fanno capo una serie di imprese che si occupano di logistica e servizi alle imprese. Erano società ovviamente intestate a prestanome al fine di permettere agli indagati una totale mimetizzazione. Queste imprese poi, come si legge nell'ordinanza, avrebbero versato somme di denaro a Simone Suriano, dipendente Lidl Italia SRL, finito oggi agli arresti domiciliani. Suriano sarebbe stato stabilmente al libro paga al fine di far ottenere appalti a favore di imprese facente parte dei consorsi CIGI Facilities e CIGILOG. L'indagine ha portato al commissariamento di quattro direzioni a cui fanno capo 200 punti vendita della Lidl Italia che non risulta indagata. In Sicilia, a Catania, sono scattati due arresti tra gli appartenenti al clan Laudani. Sono Enrico Borzi e Vincenzo Greco indagati per associazione mafiosa. Una delle direzioni Lidl finite in amministrazione giudiziaria a sede a Mister Bianco.